Allora, eccoci qua, siamo condizionati. Posso dirti una cosa, sei un grande, veramente sei un grande, anche se io sono milanista, tu sei interista, però sei un personaggio straordinario. Grazie Tiziano, qua ti vogliono tutti bene. Grazie, grazie. Ragazzone, qua ci prendono per il culo con la maglia mia. Ciao Mauro. Ciao. Salute Sassà. Il punto di Sassà che ti segue anche a te molto. Un grande abbraccio al punto di Sassà. E voi non sapete l'onore mio di stare vicino a Mauro, uno dei più grandi calciatori. Siamo forti e stasera vinceremo. Dai, dai forza Inter.